Sono Sergio Alfieri, professore ordinario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Sono direttore della UOC di Chirurgia Digestiva e del Centro Chirurgico del Pancreas, nonché responsabile del Centro Chirurgico del Conorretto al Gemelli. Assumo la direzione del Centro Chirurgico del Pancreas al Gemelli Giglio di Cefalù, insieme alla direzione del Centro di Chirurgia Oncologica dell'Apparato Digerente. È una carica che assumo in piena collaborazione con il primario che si trova già nella Fondazione Giglio a Cefalù, con cui collaboreremo. La ragione di questa partnership tra il Gemelli e il Giglio è quella di portare a Cefalù, nella Fondazione Giglio, l'esperienza di questi centri che dirigo qui a Roma, in modo tale che i cittadini in Sicilia possono rivolgersi alla Fondazione Gemelli Giglio, dove cercheremo di far rimanere più cittadini possibili della Sicilia nella loro regione.